Buonasera a tutti che riascoltano i meteo e ben trovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. Vi invito anche ad andare sul nostro link in descrizione dove troverete la nostra pagina facebook ufficiale. Non perdendoci in chiacchiere andiamo subito a vedere la tendenza meteo per quanto riguarda Natale perché l'ipotesi dell'ondata di Gelo intenso rimane confermata almeno per ora. Ricordo come ho già detto che è una tendenza a lungo termine se non un'ipotesi ma inizia ad essere ogni giorno che passa sempre più probabile. Poi possiamo vedere a partire dal 24 la massa d'aria gelida dell'artico continentale si sposterà verso il nostro paese. Nella giornata dopo del 26 la massa d'aria gelida si andrà a spostare verso la nostra penisola richiamata da un minimo depressionario di origine atlantico che farà portare l'aria più fredda, la farà entrare soprattutto dalla porta del Rodono ma anche dalla Bora. Quali temperature più basse si registreranno su tutto il centro e nord Italia dove quali nevicate potrebbero arrivare anche nel mare. Esse rimane una tendenza molto importante se così possiamo definirla quindi vi invito a non prendere tutto quello che ho detto ovviamente per certo perché bisognerà aspettare. Poi questa massa d'aria più fredda si sposterà verso sud portando una diminuzione della quota della neve anche lì. Le temperature saranno molto basse potrebbe entrare una meno 10, una meno 8 su tutta la Valpadana e non solo potrebbe scavalcare anche l'Appennino e arrivare sulla Toscana e sulla Liguria. Quali nevicate è inutile dirvi che si troverebbero a tutte le quote attenzione invece la Sicilia, la Calabria e la Puglia nel momento non verrebbero interessate ma secondo gli ultimi modelli questa massa d'aria fredda, questa massa d'aria gelida si andrà a spostare verso la Grecia e questo minimo depressionario si andrà a spostare verso la Grecia e ciò che con sé richiamerà l'aria più fredda. Questo è tutto, un caro saluto dal vostro Meteo Italia e vi ricordo ancora di iscrivervi al canale lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo.